Bitcoin a 30.000 dollari almeno. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Le politiche della Federal Reserve americana sono cambiate nelle scorse settimane perché hanno indicato una strada ben precisa e definita a tutti i mercati. Cioè la strada del game is over, la liquidità è finita e le banche centrali non finanzieranno più con emissioni massicci di liquidità anzi prenseranno sostanzialmente ad un unico obiettivo ridurre il tasso di inflazione. Un tasso di inflazione che ai livelli storici è elevatissimo arrivato ai massimi di 40 anni fa ragazzi e questo è il problema di fondo. Le banche centrali dovevano prendere una strada, una decisione quale obiettivo perseguire? Recessione economica oppure inflazione? Scelta fra queste due brutti mostri, chiamiamoli così, hanno scelto di combattere l'inflazione. Questo cambia le regole del gioco, il mercato se ne è accorto nell'arco dei giorni successivi a questa presa di posizione e chiarezza che la Federal Reserve ha indicato le scorse dieci giorni circa, un paio di settimane fa, ha immediatamente stroncato le fasi di rimbalzo dei mercati, se ne sono accorti tutti i mercati anche il nostro Bitcoin, anche i mercati crypto che non sono immuni da questa situazione. Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un video stra importante, il video più importante di analisi macroeconomica sugli mercati e sul focus dei mercati, delle criptovalute andando a prendere il report di Arthur Ace, l'ex CEO di BitMEX e andiamo a vedere che cosa scrive in quel report, ma soprattutto ad analizzare punto dopo punto tutti questi fenomeni che ha indicato, alcuni sono opinabili, altri sono dati oggettivi e sono importantissimi di andare a vedere perché in effetti messi insieme tutti questi puntini ci indicano una strada che non è rossia per i mercati finanziari nei prossimi mesi. Un po' ce lo aspettavamo, un po' ne abbiamo parlato sul canale, alcuni miei video ragazzi mi hanno già fatto riflettere su quelle che erano le problematiche di un cambio radicale di atteggiamento della Federal Reserve, su quello che la guerra Russia-Ucraina stava modificando, cioè la questione legata al prezzo che sale dei beni, quindi inflazione, e alla recessione economica dovuta anche sia al rialzo dell'inflazione sia alla questione legata alla pandemia dalla quale stiamo uscendo. Messe insieme tutte queste situazioni noi hanno messo la Federal Reserve in una morsa e ha deciso di prendere la strada del combattere l'inflazione, ma non è del tutto così, perché la Federal Reserve in questo bellissimo paper Arthur Hayes indica in pratica chi è la Federal Reserve, sta perseguendo un obiettivo che riguarda i bond e non riguarda assolutamente i mercati delle equities, quindi i mercati stocks in cui sono compresi anche i nostri amati mercati del cripto. Ed è proprio su questo grafico che andiamo a vedere un grafico di spread fra i tassi di interesse dei titoli obbligazionari delle aziende corporate U.S. rispetto, insomma, le andiamo a vedere tra poco, ragazzi, è proprio su questo grafico che si incentra la politica della Fed, almeno così dice Arthur Hayes, ma io sono fondamentalmente d'accordo, e su quel grafico le politiche della Fed cambieranno. Quindi andiamo ad analizzare punto per punto tutto questo paper, ragazzi, e facciamo le nostre riflessioni, perché proprio su queste riflessioni andremo a basare le nostre ottiche di analisi e di operatività. Ok, lungo periodo sì, ok, fase operativa, poi nel lungo, lunghissimo periodo, 5 anni, ma anche su questo Arthur Hayes va a mettere il puntino con, diciamo, il super sottolineato, la super evidenza proprio per far aprire la mente a tutti gli investitori e parlare di che significa lungo periodo. Nel video di ieri in una live super importante vi ho già accennato alla questione del concetto di lungo periodo che è assolutamente abusato in maniera illegittima da tantissime persone perché non è il modo giusto di ragionare nel lungo periodo per gli investitori mettere la testa sotto la sabbia. Riprendo questa mia metafora di circa un anno e mezzo fa, due anni fa, e ve la ributto giù in questo video. Allora, andiamo subito ad analizzare il paper, ma ragazzi, se non vi iscrivete al canale non vi date una mano con questo video perché mi servono i mi piace perché questo è un video stra importante, stra colmo di contenuto per grandi investitori, quelli che hanno la mente aperta, non quelli che seguono, diciamo, le mode del momento e non è un video commerciale, è un video di grande riflessione. Quindi state sul pezzo, state fino all'ultimo, veramente, perché all'ultimo faremo la sintesi di tutti questi punti e cercheremo di capire cosa potrà cambiare. Ovviamente, ragazzi, aiutatemi, condividete il più possibile e datemi i vostri. Mi piace così vi fate sentire un po' la vicinanza. Allora, intanto, iniziamo da It's a Trap. Allora, questa è un'immagine che qualcuno di voi si ricorda perché deriva dalla, mi pare che sia uno degli episodi di Star Wars, mi pare che sia l'attacco dei cloni. Adesso non ricordo precisamente, comunque, è una false, famosissima, è una trappola, eccetera. Allora, buy on sale. Allora, in tutta questa prima fase e prima parte del paper, ragazzi, che vi lascio chiaramente il link in descrizione, trovate sul Medium di Arthur Ace, si fa una descrizione su quella che è la questione legata, appunto, al concetto di lungo periodo. Se lo stesso autore, insomma, indica che sostanzialmente nel lungo periodo, soprattutto i mercati delle cripto, sono visti benissimo, ma di questo ve ne ho già parlato nell'ultima live quando dopo Bitcoin Miami 2022 è diventato evidente che l'adoption di Bitcoin è solo una questione di quando, ma non di se, perché sta andando a gonfie vele. Quindi, la questione sui fondamentali cripto è molto importante, quindi ci sono e sono validi. Il problema, ragazzi, è la valutazione di questi fondamentali. Queste valutazioni non si fanno con idea generale di lungo periodo a, diciamo, così, generalizzata, senza capo e ne coda, ma si fanno sui ragionamenti presenti, quindi gli investitori ragionano nel presente, non nel futuro. Questo è il ragionamento che Arthur Hayes mette in mostra in tutta questa prima parte, proprio per far riflettere il concetto che, seppur da un punto di vista di fondamentali, le cripto sono assolutamente top nel lungo periodo vero, lungo, quindi cinque anni, probabilmente avranno un grande valore. Questo valore, però, finale, non è prevedibile oggi. Quindi, gli investitori istituzionali, in particolar modo, ragionano nel presente e ragionano in un arco temporale che è di uno, due anni, ragazzi, perché su mercati che sono altamente tecnologici, come quelli delle criptovalute, non si ha la possibilità di stimare un valore a distanza di cinque anni, ragazzi, di una tecnologia, perché la tecnologia, come i bitcoin stessi, non parliamo delle altre cripto che sono, chiunque fa una stima di valutazione di un progetto, un protocollo cripto da qui a dieci anni, è un falsario, chiamiamolo così. Allora, è un'idea, un'opinione, la facciamo spesso anche noi, ma è un gioco delle parti, ragazzi, non è una cosa che si può andare a stimare perché i progetti sono estremamente tecnologici, quindi hanno un alto tasso di variabili che non sono possibili da includere in un modello, quindi facciamo solo delle idee, abbiamo solo delle idee, ma non sono realtà, ragazzi, questo è il concetto. Mentre se noi andiamo ad analizzare i mercati in periodi più piccoli di tempo, un anno per esempio, riusciamo molto di più ad avere la lente di ingrandimento, ad essere precisi al dettaglio, ovviamente non precisi con quelli che prevedono con la palla di vetro, sapete che queste cose non esistono, in analisi tecnica non si fa così, non si gioca a prevedere il futuro, ma a costruire delle ipotesi che poi dobbiamo seguire, tanto una delle due la prende sempre, quindi ad anticipare, diciamo, i movimenti del mercato. In questo paper, questa prima fase, è tutta dedicata a questa parte qui. Dopodiché, c'è un'analisi che va proprio, che scende nel dettaglio sui dati. Primo punto fondamentale della questione, il mercato è fortemente correlato, Bitcoin è fortemente correlato al Nasdaq, certo, ormai di questo ne abbiamo parlato, qui mostra anche i tassi di correlazione a 30 giorni, a 10 insomma di Bitcoin verso Nasdaq, ragazzi, ormai dal primo di gennaio, ben prima che Arthur Hayes andasse a pubblicare questo paper, vi ho già messo e inserito il Nasdaq fra i nostri grafici di valutazione di ogni lunedì proprio perché era assolutamente fondamentale andarlo a inserire in questo anno perché il tasso di correlazione stava salendo e questa correlazione va considerata. Perché? L'obiettivo di andare a considerare il tasso di correlazione non è seguire con i paraocchi cosa fa Nasdaq che farà Bitcoin ma è comprendere quello che c'è dietro ragazzi cioè un concetto ben definito store of value Bitcoin è uno store of value cioè è un asset contro l'inflazione e quindi in un contesto inflazionistico può proteggerci nel medio breve diciamo non nel lunghissimo in un anno un anno e mezzo i mercati non pensano questo ve l'ho già detto nella live di ieri lo ribadisco oggi perché la correlazione con Nasdaq 100 e anche gli altri indici americani indica che i mercati cripto sono percepiti dal mercato come dei asset tecnologici non come degli store of value non sono percepiti come loro Bitcoin non è percepito dal mercato e non è tradato dal mercato come loro in questo momento è sbagliato chiunque di noi ha letto il Bitcoin standard ragazzi sa che è sbagliato ma il mercato ha sempre ragione e fin tanto che gli istituzionali non considerano non vanno a considerare Bitcoin come uno store of value non possiamo farlo noi ragazzi perché sono le balene sono gli squali che cambiano le sorti di un mercato non certamente i retail anche se il mercato cripto ha una community molto forte io su questo punto penso che la coerenza la correlazione con Nasdaq 100 durerà fino a un certo punto perché poi intervengono i fondamentali delle cripto che sono diversi da quelli delle aziende tecnologici intervengono i miners gli exchange le community sono tutte cose che non esistono nei mercati hold quindi abbiamo una correlazione che indica che lo store of value Bitcoin store of value in questo momento il mercato dice a me non sembra a me sembra una azienda tech però dal mio punto di vista aggiungo a questo paper che probabilmente Bitcoin arriverà fino a un certo punto ad essere considerato correlato a Nasdaq dopodiché questa correlazione si interromperà o diventerà più morbida perché a quel punto intervengono le peculiarità soprattutto se i mercati dovessero scendere troppo tipiche del mercato cripto che non sono assolutamente presenti nei mercati hold e quindi saranno un sostegno secondo me alla questione della diciamo della del mercato cripto quindi alla correlazione quindi il secondo punto che Arthur mette in evidenza è la questione della correlazione quindi dice in pratica che investitori ragioneranno ad un anno circa e che in questo anno il mercato è correlato dopodiché fa un'analisi su tutta la questione dei free money cioè del fatto che in sostanza è finita la benzina qui mostra un po' un grafico e indica ragazzi questo grafico ve lo spiego in maniera molto semplice e indica in sostanza la curva che scende quella che vedete la linea che scende sono un fondo arc che sono l'insieme delle aziende tech quelle non super grandi quelle non enormi quelle molto speculative perché fa anche una differenza fra il perché Nasdaq 100 è sceso ma non tantissimo perché è sostenuto molto dalle big cap quindi da Apple Google Microsoft queste che sono le big che fanno tanti profitti ragazzi quindi da quel punto di vista nonostante la fine del free money da parte della Federal Reserve in ogni caso Nasdaq si è mantenuto perché il 40% di Nasdaq 100 è dovuto alle big tech ragazzi che sono 5 aziende ed è il motivo per il quale non è crollato molto di più mentre invece se vado ad analizzare quelle che sono le aziende tech in generale che potremmo identificare come l'insieme di magari i mercati crypto escluso bitcoin ecco diciamo così vede un crollo abbastanza più evidente quindi con questo fondo arc e poi invece la curva che sale sono i tassi dei US Treasury a due anni quindi il rendimento dei bond biennali perché sale il rendimento dei bond biennali perché la Fed ha tolto i soldi ragazzi quindi ha smesso di comprarli per una questione legata alla macroeconomia quando le emissioni di liquidità si fermano e i tassi di interesse vengono alzati da parte della banca centrale i tassi di rendimento dei titoli di stato i BTP italiani per intenderci questi sono i tedeschi questi sono gli americani salgono di rendimento quindi il rendimento che sale è negativo per il debitore in questo caso lo Stato americano ma è positivo per chi presta soldi quindi i soldi insomma costano di più questo è il significato e perciò se noi li prestiamo anche lo Stato paghiamo di più questa relazione evidenziata qui ci indica come proprio la politica della Federal Reserve da gennaio dicembre del 2021 dicembre 2021 gennaio 2022 è invertita ragazzi quindi crollo delle tech che non sono le big è salita dei tassi di interesse e dei titoli biennali fa riferimento proprio a biennali ragazzi e non ai decennali proprio per il motivo che accenna all'inizio cioè nel fatto che the present il presente è il posto dove gli istituzionali vanno ad operare anche se hanno poi un riferimento come medio-lungo periodo quindi cosa dice anche qui dice che in pratica quando ci sono i soldi facili in pratica quando le banche centrali vanno a iniettare liquidità a Google gli investitori prediliggono delle aziende tecnologiche di questo me ne ho parlato un paio di mesi fa con un video quando parlavo appunto della questione delle aziende growth e delle aziende value dicendovi che le aziende value sarebbero state molto più importanti infatti anche nelle tecnologiche quelle che reggono di più in alta che sono proprio le value quindi Apple Microsoft Google cioè quelle che fanno i profitti in sostanza qui indica proprio come quando i soldi sono facili gli investitori vanno a buttarli in quelle che sono definibili le tecnotopie parla in questo caso fa riferimento al metaverso cioè tecnologie che sono di gran lunga lontani dall'essere attivabili realmente nella vita reale ma che sembrano lì al giorno d'oggi la stessa cosa avvenne comunque nella rivoluzione di internet quando ai primi anni del 2000 si pensava che chissà che cosa sarebbe successo e poi ci sono valuti 20 anni per vedere quelle cose lì ragazzi quindi quanti soldi ci sono e sono facili gli investitori puntano su aziende tech non guardando ai multipli non guardando ai dividendi non guardando ai rischi che mettono dentro la pancia e vanno su queste aziende come se non ci fossero domani stesso identica cosa che è successa a tutte le criptovalute con progetti più piccoli estremamente rischiosi magari sostenuti da questioni che girano intorno perché c'erano easy money c'erano free money ragazzi questo è il discorso e quindi a quel punto tutto su senza diciamo che venga messo un punto alla questione dopodiché dice e fa anche riferimento alla questione della banca centrale della fed indicando che la federal reserve dice che sarà stringente 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 ma non molto perché il problema di fondo è che secondo Arthur Reis ma anche secondo me ragazzi le banche centrali combatteranno l'inflazione ma fino a un certo punto cioè la stretta che stiamo vedendo sulla immissione di liquidità sarà mantenuta tale fino a un certo punto perché le banche non vogliono alzerare l'inflazione in questo momento è un gioco delle parti lui fa anche un po' di complottismo politico indica che in sostanza fanno finta che riducono l'inflazione per diciamo sostenere la politica che dice questi programmi ma poi in realtà non è quello che vogliono e secondo me è così perché mantenendo un tasso di inflazione positivo vanno a ridurre l'impatto del debito essendo l'impatto del debito dei paesi occidentali grandissimo ragazzi è importante che ci sia un tasso di inflazione probabilmente più alto di quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni questa questione assolutamente non è opinabile quindi secondo me è verissima anche questa cosa quindi da questo punto di vista avremmo un tasso di inflazione combattuto ma fino a un certo punto ed è un po' una speranza anche se comunque ragazzi a erodere il potere d'acquisto è sempre una cosa negativa dopodichè fa un escursus su tutto quello che sono i paesi parla della Cina e del Giappone indicando che la Cina non è più in grado di sostenere la crescita della liquidità perché l'ha già fatto tempo fa adesso è anche la Cina piena di problemi con indebitamenti eccetera abbiamo visto che la Cina non funziona per niente bene e tutto il resto leggetela questa parte della Cina interessantissimo fa riferimento anche un po' in maniera ironica negativa a tutti quelli che sono stati gli atteggiamenti diciamo senza senso della Cina fa riferimento a una buca che viene riempita costantemente poi svuotata e riempita questo il lavoro lo intende quindi un lavoro inutile insomma che è finanziato solo dalle emissioni di liquidità simpaticissima questa cosa dopodichè parla anche del Giappone perché ragazzi fa una cosa del genere perché a livello macroeconomico se la Federal Reserve blocca in sostanza le emissioni di liquidità magari la Cina invece compensa immettendo liquidità nel mercato si viene a creare un effetto tampone invece in questo caso dice non può la Cina compensare e non può nemmeno il Giappone perché se anche il Giappone tenta costantemente di immettere liquidità perché ha un'economia bloccata ormai da decenni è troppo piccolo per compensare le riduzioni di liquidità messe in atto dall'intero occidente quindi questo è il concetto ve lo riassunto in maniera molto semplice in sostanza serve a confermare l'ipotesi che ci saranno meno soldi a questo punto poi fa un riferimento legato all'analisi tecnica e allora molti dicono analisi tecnica barzellette allora dipende dipende perché quello qui dice in maniera molto semplice se l'analisi fondamentale e i grafici coincidono cioè se sono identici cioè se gli grafici prendono tutta l'analisi fondamentale e la inglobano come stanno facendo in questo momento allora l'analisi tecnica ha valore e questo è il concetto ragazzi anche qui un po' un velo di cipolla tra i concetti insomma che si dovrebbero approfondire sono un po' complessa questa cosa di cosa ha valore e cosa non ha valore comunque lui qui dice il grafico ha valore perché in questo momento i fondamentali sono prezzati correttamente dai grafici e se il grafico ha valore in questo caso lui va a indicare che il Nasdaq continuerà a scendere e a testare i suoi minimi e secondo lui scenderà addirittura sull'area di supporto dei 10.000 punti in questo momento siamo molto più alti ragazzi quindi significerebbe perdere quasi un 40% dagli attuali livelli prima che la Fed vada a fare qualcosina a invertire diciamo la sua politica di restrizione delle emissioni di liquidità dopodiché va a indicare qual è il problema che la Fed sta andando a visualizzare quale grafico la Federal Reserve sta prendendo sotto stretta osservazione per decidere se è il momento di non alzare più i tassi non ridurre più le emissioni allora qui parla di una telefonata che avrebbe fatto un suo certo amico insomma che una sua amica che lavora all'interno comunque il concetto è ragazzi che secondo Arturais la Fed va a guardare il grafico dello spread fra i titoli dei bond corporate bond a BBB quindi praticamente quasi junk bond quindi quelle che sono le corporate che secondo lui non sarebbero mai riuscite ad arrivare ai giorni attuali dopo il covid senza che la Fed fosse intervenuta comprando in pratica i titoli di debito di queste corporate in pratica indica una specie di nazionalizzazione delle corporate bond con tassi con rating bassi come le BBB in questo caso indica lo spread fra i tassi biennali e il tasso decennale che lo vedete qui ragazzi si sta riducendo fin tanto che questo livello si va a ridurre la Fed non interverrà questa è la morale di questa parte qui del capitolo perché allora lo spread ragazzi vedete quando era schizzato ai massimi eravamo a marzo del 2020 quindi proprio con la pandemia lo spread fra i biennali e i decennali è un po' un'indicazione del tasso di possibile fallimento di un'azienda o anche di uno stato possiamo anche guardarlo su uno stato questa cosa qui ragazzi quando i rendimenti dei biennali dei titoli di stato o dei titoli di obbligazioni di debito delle aziende corporate in questo caso a due anni sono più alti di quelli a dieci anni è una imperfezionale del sistema economico che probabilmente indica una grave situazione che porterà al fallimento dell'azienda in questione quindi delle corporate americane entro poco poco tempo la Fed questo lo sa e a marzo del 2020 è intervenuta in maniera massiccia comprando i bond a due anni facendo scendere il tasso di yield quindi il rendimento dei titoli di debito a due anni questa cosa la si fa per riportarlo in equilibrio con i tassi decennali e in questo modo si evita il crash il fallimento delle aziende corporate questo significa che secondo Arthur Ailes la Federal Reserve non riaprirà i rubinetti fino a quando questo grafico non indicherà dei rischi cioè fin tanto che questo grafico resta così e non torna a salire la Fed continuerà a stringere i rubinetti siccome qui siamo ancora all'1% c'è spazio ancora per una discesa teoricamente dovrebbe essere negativo quindi sotto lo zero questo tipo di diciamo grafico fino a quando il grafico scende la Fed secondo lui non interverrà la Federal Reserve ha anche un altro obiettivo negli Stati Uniti d'America ragazzi questo lo aggiungo io combattere il tasso di disoccupazione quando è che la Fed decide di cambiare le sue politiche quando vede le corporate e quindi le aziende che stanno per fallire perché l'obiettivo della Federal Reserve è innanzitutto preservare l'occupazione il tasso di occupazione dei Stati Uniti se le corporate falliscono il tasso di disoccupazione salirebbe alle stelle quindi da un certo punto di vista queste informazioni sono identiche quindi la Fed decide la sua politica in base al tasso di disoccupazione e questo grafico quindi lo spread biennale decennale dei bond corporate BBB cioè delle aziende che sono lì per fallire se il tasso scende quindi lo spread si rilivella al tasso zero quindi si va in equilibrio è sostenibile vuol dire che le aziende resteranno aperte che il tasso di disoccupazione resterà abbastanza basso quindi la disoccupazione è bassa in quel caso la Fed combatte l'inflazione quindi fin tanto che queste due indicazioni sono corrette la Fed va a combattere l'inflazione quindi riduce i money se non cambia nulla da questo punto di vista noi abbiamo davanti un anno di stretta monetaria e un anno di stretta monetaria significa il calo o comunque non più burran per su mercato cripto compreso ragazzi va bene dopodiché nella parte finale parla della guerra dice che secondo lui la guerra continuerà si dividerà l'Ucraina un po' come la Germania purtroppo su questo penso pure che abbia ragione anche su questo ambito perché veramente non sembra che la questione bellica si possa sistemare in qualche modo e che anche dopo la fine della guerra dice comunque le sanzioni continueranno ad esserci questo tipo di paragrafo dà risposta alla questione legata a se il tasso di inflazione e il rialzo dei prezzi si manterrà oppure uno shock temporaneo secondo lui è uno shock che durerà nel tempo infatti qui alla fine conclude dicendo che i prezzi più alti delle commodity sono entrati nell'economia per restarci proprio a causa della questione bellica che non finirà tanto presto e la porteremo avanti più in là detto tutto questo quindi inflazione resterà alta perciò la Fed continuerà ad alzare i tassi fino a cercare di mandare in recessione l'economia e battere questo tasso di inflazione dall'altra parte occupazione resta accettabile fin tanto che i bond vi ho fatto vedere il grafico come lo mostra mantengono un grafico non pericoloso la Fed non interverrà perciò alla Fed in pratica ragazzi non importa nulla dei mercati azionani questo è il concetto di questo paper importa sostenere questi valori di macroeconomia le cripto perché unisce adesso i puntini andiamo alla fine un po' della questione allora le cripto che cosa succede? Bitcoin Editor sono fortemente correlati al Nasdaq 100 quindi lui dice se il Nasdaq crolla lo faranno anche le criptovalute perché abbiamo visto la questione legata alla correlazione parla anche della Fed e dice che la Fed sta combattendo l'inflazione come vi ho detto prima e non cambierà politica fin tanto che non si mette male relativamente alla questione degli spread dei titoli delle corporate oppure alla disoccupazione la Fed vedete qui lo specifica sostiene non le equities ma le US corporate credit ed è assolutamente così ragazzi ve lo assicuro la crescita globale andrà verso una questione di recessione economica a causa dell'escalation della guerra Russia-Ucraina conclude il paper dicendo ipsofatto se Nasdaq scende le cripto lo faranno pure bitcoin editor probabilmente secondo lui troveranno un bottom intorno ai 30.000 per bitcoin e 2.500 per ethereum io dico che è stato anche buono ragazzi perché andiamo un po' al solo vi dico anche la mia allora questo paper è condivisibile sì o no sì è condivisibile in tutto perché è un ragionamento di natura macroeconomica quindi quello che abbiamo fatto oggi ragazzi è ragionare a livello macro questo è il vero pensare a lungo periodo non ipotesi campate in aria e sviluppate da modelli che non hanno né capo né coda va bene allora questi dati ci sono compreso il concetto che il mercato anticipa ragazzi è che quindi l'analisi grafica in questo caso ha molta più validità da qui a un anno rispetto a qualsiasi fondamentale perché stiamo parlando di un anno particolare con tutte queste situazioni ecco perché il grafico in questo momento è estremamente più importante di Miami Bitcoin Miami 2022 e dell'adoption perché l'adoption c'è quello è dato per scontato però qui non si tratta ragazzi del mercato cripto che non va dove deve andare perché ci sta andando qui si tratta della macroeconomia dell'intero sistema finanziario che deve essere mantenuto e bisogna lottare il tasso di inflazione e nessun asset cripto è esente da questo meccanismo perché al momento il mondo cripto è immerso nel sistema finanziario globale non è a parte ragazzi Bitcoin non è uno store value percepito dal mercato in questo momento seppur dal mio punto di vista sotto alcuni livelli interverranno i miners interverranno quelle situazioni classiche che i mercati cripto hanno e ve l'ho detto prima non penso ci sarà un crash importante con un crash crash giornaliero ma ci sarà un lento teclino probabilmente lungo perché la Fed ragazzi non interessa far crashare i mercati interessa allungare i tempi per far riassorbire queste indicazioni questi indici macroeconomici le banche centrali non lavorano creando flash crash ragazzi agiscono contro quella volatilità che è un discorso diverso stabilizzano quindi in questo caso devono stabilizzare l'inflazione che ha fatto il pump perciò allungheranno i tempi quindi probabilmente non assisteremo a un lento leggero declino trading range laterale ribassista per un bel po' di tempo fin quando tutto non rientrerà poi alla fine Arthur Reis diciamo tira una freccia all'arco delle cripto e dice allora quando questa questione sarà messa in atto che comunque dice ci sarà questo lento declino ma non tantissimo perché la Fed non vuole un'inflazione zero questo l'ha detto quindi è una media in pratica scende ma fino a un certo punto questo indica per questo dà dei target a 30 e non scende di più perché è stato buono ragazzi secondo me nel momento in cui i mercati inizieranno a scendere la inflazione andrà giù e la Fed fermerà la stretta monetaria questo è il concetto perché vuole un tasso di inflazione intorno al 3% magari quindi non il 2 il 3 il 4 questo qui e solo allora dice avremo delle grandi occasioni in cripto il problema ed è una domanda una riflessione che io adesso vi faccio anche a voi e vi chiedo cosa ne pensate voi perché la vera domanda degli investitori cripto è questa bitcoin è un dato di fatto ethereum è un dato di fatto merge a parte tutta la questione legata alla situazione ma le altre cripto cosa faranno che cosa sono le altre cripto in un contesto di riduzione di liquidità quali progetti possono veramente sostenere ed essere stabili in un concetto in cui i free money vengono via vengono tolti ragazzi cioè i soldi regalati dalle banche vengono via se i soldi vengono via e vengono eliminati quali progetti cripto saranno in piedi questa struttura che probabilmente assisteremo proprio esattamente nei prossimi sei mesi a questa struttura si chiama fase di consolidamento dove sopravviveranno le cripto che hanno progetti validi alle spalle capitali alle spalle team rilevanti alle spalle e che hanno una community molto forte ancora una volta alla fine dei conti quello che conta scusate il gioco di parole è l'ambito umano ragazzi cioè la capacità del team di un protocollo di un progetto di sostenere quella view e di creare degli spazi di crescita un po' come stanno facendo delle criptovalute del mondo DeFi che stanno lottando con i loro ecosistemi che da una parte hanno creato un po' magari arbitrariamente ma poi li correggono ragazzi atteggiamento giusto quindi quali sono secondo voi i progetti che vedremo ancora dopo questi sei mesi e quali secondo voi invece sono dei must short perché l'investitore può anche dire ok un periodo così io vado short a coprirmi contro i progetti deboli quali resteranno quali non resteranno Metaverso NTF DeFi i progetti piccoli o anche un'ideuccia sui progetti piccolini che secondo me potrebbero resistere molto di più di alcuni colossi perché a volte Davide contro Colia funziona anche nei mercati cripto e se magari il progetto è piccolino perché no più di qui non può andare e magari regge una fase di consolidamento molto di più di un progetto big magari ok speriamo di no ovviamente comunque questo è tutta la situazione ora come si sposa con la nostra analisi io sono sempre un trend follower quindi seguirò comunque tutto quello che noi ci siamo detti ma la macro analisi dei prossimi mesi probabilmente è questa e coincide anche alla perfezione con quello che ci aspettiamo nei prossimi sei mesi cioè la fase finale del ciclo annuale di bitcoin cioè la fine del ciclo annuale che purtroppo si va ad indirizzare dopo maggio verso la parte ribassista quindi aprile ancora non è finito maggio deve arrivare ma al di là di questi due spazi temporali ragazzi probabilmente non avremo più modo di fare nuovi massimi il primo livello di bitcoin il primo tentativo è stato invalidato la scorsa settimana la 48 è risceso doveva arrivare a 56 da qui abbiamo ancora maggio ma siamo veramente molto deboli la questione si mette un po' maluccia quindi assistiamo seguiamo sempre i grafici ragazzi però mantenete saldi anche le vostre riflessioni su quello che state facendo progettate progettate strategie di protezione per i vostri capitali gli investitori pensano a lungo periodo come visione ma agiscono nel medio periodo non ve lo dimenticate va bene? ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video